ciao ciao amici benvenuti bentornati qua sul mio canale sono come sempre il carletto fare una delle mie recensioni pazze appassionato di queste figure oggi è il momento di un cavaliere dello zodiaco un cavaliere d'argento il nostro centaurus babel della costellazione del centauro guardate questa qua è appena appena uscita e quindi non potevo non farvela vedere lui come vedete è uno dei nuovi cavalieri d'argento che bandai ci sta proponendo in versione classic perché vedete come vedete un po sta continuando anche comunque bandai classic e ci ha fatto adesso questo centaurus che non sembra niente male quindi cosa facciamo come sempre lo andiamo ad unboxare ve lo faccio vedere bene 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 nel dettaglio e poi lo vediamo girare solite cosine e spero di farvi una recensione fatta bene come il mio solito ma anche un po divertente è un po smilzo sto centaurus babel qua lo vedo un po smilzo è più magro dell'allarmatura vedete sembra anoressico però vabbè dai diamolo a vedere bene 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 se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale mi raccomando partiamo partiamo col dire ragazzi che come sempre bandai ci mette all'interno il suo librettino ci fa vedere da una parte ma tutto quello che troviamo all'interno tutti i pezzi che troviamo all'interno del mit dall'altra comandare a montare il nostro cavaliere comandare a montare il nostro totem vedete qua cavaliere e totem fatto di scontamento bene come al solito ma giusto il minimo indispensabile poi partiamo allora qua vi faccio vedere subito la cosa che a me preme di più i volti guardate che belli come sono fatti bene questo è quello lacrimante questo è quello di abalico questo qui è quello incazzoso e questa qui è la capegliatura per andarli a mettere ci permette vedete con quel buchino lì da andare a mettere il suo elmo queste qua sono le parti fondamentalmente in questo blister quasi tutte in plastica che ci permettono di montare il totem tranne la parte qua delle spalle queste parti qui solo questi quattro pezzi che vanno qua sul totem sono in metallo gli altri sono completamente completamente in plastica poi dopo comunque in questo blister andiamo a recuperare alcune parti che poi vi faccio vedere perché perché in realtà gli possiamo mettere vedete tipo gli avambracci due tipi quelli che abbiamo nel blister col cavaliere e questi che abbiamo nel blister del totem allora comunque fatto discretamente bene anche le parti qua vi voglio far vedere allora la parte invece dei pezzi che sono con il cavaliere sono tutti in metallo ve li faccio vedere bene bene ma poi sapete che lo monto ve lo faccio vedere anche così nel dettaglio montato da cavaliere e poi lo vediamo a girare verniciatura questa volta sembra perfetta poi dopo lo vedremo quando vado comunque a indossare le parti sul cavaliere e cavaliere come vi dicevo sminzo un po sminzo però adesso vi faccio vedere più che altro la capigliatura che poi andremo a levare quella classica normale vedete questo è il volto anche questo qua che viene già montato sul cavaliere boss milzetto però comunque sia fatto veramente bene come tutti i nostri ormai mit che però ogni tanto presentano quei difetti di verniciatura che odio mamma mia dai montiamo gli sull'armatura vi faccio notare una cosa sono andato perché primo ho detto che cambiavano la parte qua delle braccia in realtà sono due ragazzi sono proprio vedete due stili completamente diversi perché noi possiamo andare a me a cambiare il diadema qua vedete dell'elmo possiamo andarli a cambiare addirittura vedete la pettorina infatti nella parte dove troviamo il totem e troviamo quelle quattro parti di metallo sono le quattro infatti di metallo che vanno sul cavaliere vedete quindi cambiano non solo i bracciali ma cambiano anche praticamente la parte qua della cintura vedete da una parte è più è un pezzo unico e praticamente senza la parte rossa centrale cambia completamente cambia anche la parte vedete del del proprio l'elmo che con elevando il diadema questo qua colorato ovviamente lì è grigio e quindi cambiano proprio sono due stili diversi di indossare all'armatura al nostro centaurus quindi allora io vi farò vedere questo di qua ma poi comunque vedete le differenze sono visibili comunque vediamolo bene bene nella prima nel suo stile diciamo primario guardate qua siamo andati a mettere che è quello che a me piace di più perché ha più colore vedete al diadema vedete colorato in più gli ho messo vedete la capigliatura che ci permette di indossare apposta l'elmo come possiamo vedere gli ho utilizzato la parte centrale quella anche qua colorata rosso usato lo stile di sinistra con le due parti delle braccia vedete rigonfie questa qua praticamente questa qua è la modalità secondo me più bella poi gusti sono sempre soggettivi qua hanno fatto devo dire la verità guardate bandai un egregio lavoro perché non ha sbavature questo cavaliere d'argento non presenta non ho trovato difetti l'unico difetto è un po come sempre queste parti che si incastrano da solo un po complicato se le muoviamo troppo saltano via mi viene un nervoso nella cosa dei cavalieri dobbiamo imparare a montarli velocemente bene perché sennò poi ci si staccano i pezzi che abbiamo appena messo vedete qua adesso mi si è stortato praticamente qua un pochettino il gambale la cosa brutta dei cavaliere sempre che queste parti a volte si muovono e poi le dobbiamo andare a rimettere poi si stacca un'altra parte comunque guardate com'è bello lucente guardate anche questa espressione molto carina dai vediamolo girare però qua non ho trovato ragazzi dove sono contento perché finalmente qua anche non ho trovato difetti mi sembra fatto veramente bene questo centa rusma vediamolo girare ecco qua il nostro centa rus babel con la sua armatura d'argento cavaliere silver d'argento splendente questa volta sono contento perché non mi sono ne passo di vedere difetti lui è veramente carino fatto secondo me veramente bene abbiamo come abbiamo visto abbiamo possibilità di fargli due stili indossabili di armatura andando a cambiare la parte del petto nella cintura e nelle braccia quindi e anche addirittura l'elmo con il diadema vi faccio vedere adesso perché possiamo andare a levare quel diadema e mettergli questo diadema non colorato comunque veramente carine vi faccio vedere le parti magari in questione queste qui sono le parti che questa qua è la parte frontale vedete non colorata di rosso della cintura che vi possiamo andare a cambiare del cinturone che queste qua sono le parti fondamentalmente delle braccia ma me salta molto di più così come l'ho montata anche se questa delle braccia non è tutto sommato male allora dai lui è fatto bene l'armatura è bella massiccia lui è smilzo che il grande difetto a volte di questi cavalieri che se li guardate l'addome è proprio smilzo però non si può dire niente come lucentezza colore i volti è veramente carino centaurus è fatto veramente bene 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 dai io preferisco le versioni ex come sapete perché anche quali sono affusolati ma sono veramente belle anche se questi classici che finalmente ci stanno completando i cavalieri d'argento non sono fatti niente male i cavalieri d'argento per me che collezioniamo anche se in versione classic ragazzi bisogna averli perché comunque nella prima serie insieme ai cavalieri d'oro erano fondamentali quindi anche se delle mezze seghe che venivano sconfitti subito con quattro piedate nel sedere diciamo che anche i cavalieri d'argento vanno fatti assolutamente dai lui comunque bello mi è piaciuto e finalmente non ho trovato almeno nella mia copia non ho trovato alcun difetto quindi andrei anche a concludere abbiamo visto anche il nostro centaurus ragazzi che non è fatto niente male come vi dicevo prima gli possiamo permettere di indossare due stili diciamo così di armatura adesso non sta più in piedi che è successo era bello rigido magari l'ho mosso io e possiamo indossare due stili di armatura che ve li faccio rivedere vedete dove va a cambiare la parte del petto la parte del gonnellino e la parte delle braccia fondamentalmente e poi vi faccio vedere anche il suo totem perché io non li monto mai a totem ragazzi perché alla fine in vetrina lo tengo a cavaliere secondo me o siamo straricchi milionari facciamo il due per di tutti i cavalieri teniamo totem e cavaliere se non generalmente li teniamo tutti a cavalieri e che dire se vi è piaciuta la recensione mi raccomando un bel pollice un like che non ve lo tagliano questo dito lo dico sempre come dico sempre anche attivate la campanellina che vi arrivano le notifiche e che dire iscrivetevi al canale che così mi fate capire che sono super seguito come faccio io sempre vi faccio salutare a volte anche da i personaggi intervistati io sono babbel della costellazione del centauro centaurus vi saluto vediamo vi saluto ciao ciao muovi la manina ciao ciao ragazzi alla prossima recensione e mi raccomando iscrivetevi e seguite sempre il carlet guardate come vi saluto ciao ciao alla prossima recensione